Siamo tornati in studio, siamo sempre ad Angoli ben ritrovati prima di riprendere il nostro appuntamento della sera. Vi ricordo per chi non fosse stato in nostra compagnia sin dall'inizio come restare sempre in contatto con la nostra redazione. Molto semplicemente basta scrivere una mail al nostro indirizzo di posta angolichiocciolaespansionetv.it Bene, vi presento subito l'ospite questa sera in studio qui con noi. Ringrazio e saluto il dottor Franco Ruffa. Ciao Franco, grazie per essere qui con noi. Grazie a te Dolores. Ricordo, Franco Ruffa è cardiologo e collabora con il Centro Diagnostico Sillab San Nicolò, Como e Lecco. Poi ne parleremo in maniera diffusa. Ricordo prima di iniziare la nostra chiacchierata con il dottor Ruffa che questo è il terzo di una serie di appuntamenti che abbiamo voluto appunto in collaborazione con Sillab Centro Diagnostico San Nicolò di Como nel quale vi abbiamo presentato delle figure professionali molto significative che ci hanno raccontato delle possibilità che potrete trovare all'interno del Centro Diagnostico. Vi ricordo il dottor Franco Perego che ci ha parlato di Rigenera, un protocollo importante del quale appunto abbiamo parlato qualche giorno fa e sempre qualche giorno fa abbiamo chiacchierato anche con il professor Gaetano Ideo che ci ha raccontato l'altissima percentuale nella possibilità di guarigione dell'epatite. Questa sera un altro argomento molto importante davvero che sta a cuore e non a caso a tutti noi perché con il dottor Franco Ruffa parleremo di cardiologia e quindi della salute del nostro cuore. Franco, vengo a te. Quindi, l'importanza soprattutto di fare prevenzione cardiovascolare. A te la parola. Sai Dolores, l'importanza è sotto tanti punti di vista. Teniamo presente che le malattie cardiovascolari sono a tutt'oggi la prima causa di morte nei paesi occidentali e quindi l'importanza è sia ovviamente per un'importanza clinica, un'importanza sociale ma anche un'importanza economica. C'è sempre una maggiore attenzione alla prevenzione rispetto alla cura. E poi è molto importante perché ormai grazie alla grande informazione che c'è sotto tutti i punti di vista, la televisione, internet, ormai chiunque riconosce quelli che possono essere i fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. Ricordiamoli. Ad esempio l'ipercolesterolemia, avere il colesterolo alto, ovviamente scontato, il fumo, il diabete, molto importante, il sovrappeso, recentemente è entrato come fattore di rischio importante anche il diametro addominale che ha delle misurazioni ben precise per uomo e per donna. Tutti questi fattori di rischio sono facilmente riconoscibili e distribuiti nella popolazione. Però, se mi fai vedere la prima slide... Certo, la regia ci aiuta tra pochissimo e ci manda questa slide. Eccola qua. Qual è il problema vero? Il problema vero è che il paziente conosce il fattore di rischio e spesso e volentieri il fattore di rischio potrebbe essere facilmente rimuovibile dal paziente stesso. Però c'è una scarsa percezione del link che c'è, del collegamento che c'è tra il fattore di rischio e il potenziale danno che il fattore di rischio può portare. Quindi è una superficialità, un non voler vedere il problema, far finta di niente. Come ci si comporta di solito? Ma sai, in realtà il fattore di rischio non ti dà un sintomo. Quindi non dandoti un sintomo tu rinvii psicologicamente il problema più avanti a quando avrai un sintomo. E quindi qui passiamo alla cura, non passiamo più alla prevenzione. Invece la prevenzione è molto importante. Scusate, abbiamo due ordini di problemi. Se mi fai vedere l'altra slide. Eccola qua. Noi possiamo categorizzare, cioè le società scientifiche e le società sanitarie hanno categorizzato attraverso questo sistema colorimetrico, che prende il nome di SCORE, le percentuali di rischio di un paziente in base ai fattori di rischio. E si va da una percentuale di rischio cardiovascolare molto basso, fino ad arrivare a percentuali di rischio cardiovascolare molto alto, tipo 30-35% di possibilità di avere eventi cardiovascolari a 10 anni. Mi fai vedere l'altra diapositiva? La Regia ci manda la prossima diapositiva tra poco. Comunque, di fatto, Franco, quindi il punto, il focus è proprio l'importanza della prevenzione. Fare prevenzione è un aspetto molto importante che, parlando proprio di SINLAB e del Centro Diagnostico San Nicolò, è assolutamente una possibilità concreta. Ecco l'altra slide. Esatto. Rimane però comunque una scarsa propensione a fare delle attività di screening. E quindi questo ci fa sì che noi facciamo fatica a individuare i pazienti che possono essere potenzialmente a medio ed alto rischio cardiovascolare. Quindi bisogna entrare in un'ottica di prevenzione a prescindere dal fatto di avere un sintomo, di sentirsi poco bene. La prevenzione va fatta, sempre. Perché qui stiamo parlando di tutti i pazienti asintomatici. Il problema è che sono pazienti in due categorie di rischio, per quanto riguarda le malattie cardiovascolari, molto diverse. E ovviamente, essendo in due categorie di rischio così diverse, avranno due approcci diagnostico, terapeutici, programmi, follow-up, molto diversi. Vorrei farti vedere l'altra slide perché è molto significativa. Sembra complicata, ma in realtà non lo è. Nella prima colonna c'è un valore pressorio. Il valore pressorio non intersecato, non incrociato con altri fattori di rischio, tiene il paziente comunque in un basso profilo di rischio cardiovascolare. In presenza di altri fattori di rischio, il fumo, il diabete, l'obesità e quant'altro, lo stesso valore pressorio si aggiunge come fattore di rischio e porta il paziente da un basso valore a un valore medio o addirittura a un alto valore di rischio cardiovascolare. Quindi, quello che noi vogliamo fare, e SINLAB proprio con questo obiettivo ha organizzato dei check-up cardiologici nei quali si può fare uno screening di base del paziente, sia riguardo esami del sangue ovviamente completi, ma mirati allo screening cardiovascolare, sia esami strumentali cardiologici, di individuare questi pazienti a medio ed alto rischio, capire se è già presente, perché questo sposta molto l'ago della bilancia del rischio del paziente, se è già presente danno d'organo, e scusatemi, non è un tecnicismo, danno d'organo è molto semplice, per quanto riguarda le malattie cardiovascolari, vuol dire che le arterie cominciano a rovinarsi, così ci capiamo subito, e questo lo possiamo vedere molto facilmente con degli esami di primo livello. Ovviamente le strategie saranno diverse in base a quello che noi troviamo nel singolo paziente. Quindi di fatto, Franco, nella filosofia di SINLAB San Nicolò, ripeto San Nicolò perché insomma è anche molto conosciuto il centro diagnostico secondo questo modo di appellarsi. Nella sua filosofia qual è pertanto la modalità ottimale che volete insomma offrire per fare questa prevenzione? Ci sono presenti questi check-up cardiologici che possono essere direttamente richiesti dall'utenza. Non c'è bisogno di una richiesta specialistica o di una richiesta medica. Quindi direttamente da voi? Direttamente, esatto. E su questi poi eventualmente saremo noi, saranno i medici, saranno i cardiologi che appunto si occuperanno di questi check-up a dare eventualmente le indicazioni per fare poi degli esami differenti di livello superiore in base a quello che emerge dal check-up. Ci sono peraltro anche dei pacchetti di esami strumentali cardiologici. Questi però vanno richiesti dal medico, dallo specialista, dal medico di famiglia o da noi stessi che abbiamo visitato il paziente che possono soddisfare anche chi ha già avuto un evento. Quindi parliamo non più di prevenzione primaria che è quello di cui stavamo parlando adesso ma parliamo di prevenzione secondaria. Questi pazienti ovviamente devono seguire dei programmi di follow-up, devono fare degli esami. Noi possiamo offrire dei pacchetti che radunano in maniera differente a seconda delle esigenze del singolo paziente e del singolo caso clinico che radunano gli esami strumentali che questo paziente deve fare. Ecco Franco, entriamo ancora un po' di più nello specifico. Hai parlato appunto di prevenzione primaria se non ho capito male. A quale età si inizia a consigliare ovviamente? Abbiamo ben capito che deve essere quasi un'esigenza personale quella di salvaguardare la propria salute quindi un'iniziativa che la persona, l'utente deve prendere. Però utilizziamo questo strumento, insomma tante persone ci ascoltano. Quindi qual è l'età alla quale se si è donna, se si è uomo insomma è importante iniziare a pensare anche alla prevenzione sotto il profilo cardiovascolare? Guarda Dolores, io rigirerei un po' la tua domanda nel senso che innanzitutto comincerei ad eliminare i fattori di rischio importanti da subito, dall'età giovanile anche dall'età infantile Quindi regole comportamentali che facciano sì che un paziente a 30-40 anni non abbia già un iniziale danno d'organo. Quindi per fare i classici esempi che però vanno sempre ricordati l'abolizione totale del fumo ovviamente un'alimentazione che porti a non avere valori di colesterolemia LDL che ormai è il punto di riferimento principale per capire se un paziente ha questo problema incominciare a eliminare questo tipo di problemi. Ovviamente ci sono delle fasce d'età che sono potenzialmente più interessate da una prevenzione primaria che sono le fasce d'età per quanto riguarda la donna il periodo periclimaterico ovviamente dove nell'organismo ci sono anche per ragioni metaboliche tutta una serie di cambiamenti. Poi in realtà un'età precisa ad esempio per l'uomo maschio non c'è perché noi sappiamo dagli studi clinici che le donne fino all'età alla termine dell'età fertile sono molto protette per quanto riguarda le malattie cardiovascolari della natura ma mentre l'uomo no cioè un uomo diabetico di 30 anni che pesa 110 kg che fuma un pacchetto di sigarette al giorno ha più rischio di un uomo di 65 anni che fa 500 km in bicicletta alla settimana. Quindi davvero ci vuole molta coscienza di se stessi a prescindere dai sintomi che a volte non si manifestano in maniera importante e soprattutto acquisire delle regole di vita e di comportamento che siano insomma più salutiste. Franco, ma gli aspetti genetici per esempio abbiamo pochissimo tempo ancora a disposizione possono giocare un ruolo importante sia in queste sintomatologie ma anche nella possibilità diagnostica? Guarda, questa è la nuova frontiera della medicina se ne parla tanto spesso se ne sparla un po' a sproposito in realtà Synlab attraverso Genetic Lab che è un laboratorio di Synlab sta sviluppando dei pacchetti di esami sul DNA del singolo paziente nei quali si possono vedere i polimorfismi parolona senza entrare nei tecnicismi come possiamo tradurlo in maniera che tutti lo capiscano i polimorfismi sono le caratteristiche che quel paziente avrà potenzialmente ad esempio di sviluppare un'ipercolesterolemia e questo può essere portato a tante altre cose addirittura stiamo sviluppando dei pacchetti che per ora non sono ancora attivi ma penso che all'inizio del 2018 sì anche per vedere quali farmaci sono migliori oltre alle indicazioni cliniche ovviamente per il singolo paziente cioè se un paziente potenzialmente potrà sviluppare o no gli effetti indesiderati conosciuti per quel determinato tipo di farma Benissimo io ringrazio il dottor Franco Ruff a ritorno all'ufficialità ovviamente per averci aperto una panoramica importante sulla prevenzione cardiovascolare ricordo ancora grazie alla tua presenza grazie a te l'importanza del centro diagnostico Sillab San Nicolò e insomma Franco poi torna quando vuoi perché la salute del nostro cuore ci sta sempre molto a cuore ovviamente molto volentieri quindi è importante conoscerla e soprattutto praticarla grazie Franco grazie a voi che siete sempre in mia compagnia ed è arrivato come ogni sera è il momento di passare la linea ai colleghi dell'informazione grazie a tutti